Ciao, mi presento, sono Nico Blasi, ho 49 anni, sono della provincia di Genova e nella vita sono un commerciale. Per cui ho aderito a No Limits Generation. Ho fatto delle considerazioni che repito estremamente semplici e pratiche allo stesso tempo. Se vuoi ottenere dei risultati importanti nel tuo marketing, che fino a ieri erano a disposizione di pochi eletti, devi riuscire a imparare e affinare abilità e competenze nuove, per poter sviluppare al meglio, sia online che offline, la tua attività. All'interno di No Limits Generation, di questo fantastico gruppo, ho trovato i migliori network e i migliori internet marketing presenti in Italia. Quindi le abilità e le competenze del singolo a disposizione del gruppo. Solo in questa maniera, con l'unione e le competenze condivise, si possono ottenere realmente dei traguardi impensabili. Ciao, a presto.